Il corso di guida economica è un appuntamento fondamentale per i nostri clienti perché è la naturale prosecuzione dell'attività di consegna del veicolo. Un camion moderno offre al conducente tantissimi sistemi di supporto alla guida per rendere l'esperienza di viaggio più confortevole e sicura. Attraverso il corso di guida economica vogliamo aiutare i conducenti a conoscere e sfruttare al meglio la tecnologia di cui ha dotato il loro nuovo Volvo. La giornata di formazione viene effettuata presso le concessionarie Volvo Trucks oppure direttamente presso le sedi dei nostri clienti. Durante il corso alterniamo momenti di teoria a momenti di pratica. In aula gli istruttori illustrano i principi fondamentali della catena cinematica Volvo e approfondiscono il funzionamento dei software di bordo. Si dialoga tecnicamente con i partecipanti su come combinare sapientemente iShift, iSee, iRoll, iCruise e freni ausiliari per ottenere la massima performance dal veicolo in termini di efficienza nei consumi. La parte pratica si svolge utilizzando i veicoli dei partecipanti per meglio simulare le reali condizioni di uso quotidiano. Durante la prima parte di guida gli istruttori prendono nota dei potenziali miglioramenti, li condividono con i conducenti affinché nella seconda parte di guida mettono in pratica i loro consigli. Al termine della giornata gli istruttori illustrano i miglioramenti ottenuti a parità di condizioni. Per sottolineare che attraverso una maggiore conoscenza del veicolo il fattore umano può fare la differenza.